bella ragazzi bentornati sul canale dei grananas siamo insieme bentornati sul canale dei grananas grananas c'è sempre la calata io stiamo giocando insieme stiamo facendo il commentare insieme stiamo giocando contro comunque siamo su Warhawk 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 due cazzo stanno non c'è stanno vai tranquillo grande e di un po' la classe oh ero terca eh Cloros Day 27 la classe basta un po' l'ho anche appena fatta la classe forza troia e non me la ricordo a K12 compugnatura e silenziatore olè bam grande così grazie inflessibile gioco di prestigio vabbè ok qualche bonus c'è qualcosa c'è che pro player sono pieno di bonus oh che scivolata si si forse lo prendi vai no vabbè non ho abbassato la mira comunque io sto ritirando perché prima stavo giocando sulla Playstation 4 adesso siamo su Playstation 3 perché stiamo giocando su Playstation 3 purtroppo la Playstation 4 per quanto è innovativa non possibilita ma che cazzo sta dire non rende possibile registrarci sopra quindi è una merda un po' no la Playstation dico la situazione vuoi morire? sperando che sarà cambiata questa situazione comunque stavo registrando si stavo giocando adesso stavo ma che cazzo sta dire oggi tutti dislestici dislestici vabbè stavo che cazzo stavo a fare si stavo giocando stavo facendo la game stavo a 19 vabbè mo non si sa se l'avrebbe fatta e salta la connessione a 19 insomma un po' rosicata su Playstation 4 cosa che non è mai successa in vita mia perché salta proprio tutto cioè gli è saltato gli è saltato a casa in pratica si eravamo noi che dovevamo fare la salta a Frax invece mi sa che Frax che ha fatto la salta a noi allora dove è andato? da qualche parte come è possibile che è sparito così? ma la stava conquistando comunque senti un attimo in questo momento oh oh in questo momento voglio che mettete un mi piace in questo momento solenne adesso l'avete messo? bravi ok adesso possiamo continuare con il gameplay con il commentary so perché dovete aiutarci insomma aiutateci a crescere perché se volete se ci volete bene è importante che ci fai bene è importante che ci fai crescere no dai c'è un po' di merda e commentate qua sotto anche se scrivete cacca caccapupupipi papà se scrivete questo qua nei commenti a noi ci va bene lo stesso si si perché vogliamo che voi siate coinvolti nei nostri video ok? se vi piace il video condividetelo con i vostri amici dite oh sai che c'è sta migranas io mi sto a vedere mentre è stata ricreazione a scuola che ora magari la scuola è finita però comunque mentre è stata ricreazione dite oh ci stanno i grans vantela bene sono bravi ma perché parli più piano quando parli perché stanno stanno a trafficare comunque quello non lo prendi c'è la mirarqua dai l'assist cristo dio e basta così per quelli che al primo turno hanno messo un mi piace lo voglio che lo mettono in questo momento cioè tu fai i turni per tutto il video ok l'avete messo voi che siete la seconda parte la seconda ondata quindi vi dico grazie per il like perché io non so fare quella cosa tipo grazie per il like che spunta la faccia del youtuber no perché penso che vi metteremo paura con qua la faccia là eh non la so fare quindi io ve lo dico così grazie per il like grazie ah e passate su una pagina facebook ecco in descrizione c'è sta tutto questa pagina facebook c'è stato anche i nostri profili privati se poi vi interessa che volete vostra se poi vi interessa se poi volete avere il grande fratello proprio se il grande fratello lei sa la casa del grande fratello si hanno bruciato che è presa bene mamma mia lo sono proprio contento vabbè non ho niente contro il grande fratello cioè si in realtà si però per tutti gli amanti del grande fratello tranquilli continuatelo a guardare è bellissimo e io non trovo più nemici cioè un quarto d'ora che giro e rigiro e non c'è nessuno beh ma alla fine sei forte eccolo oh mamma mia eccolo oh che trickshot ma perché stanno bombardando la mappa eh ah è tipo attacco con un taglio vero che c'è soltanto in questa mappa come la game si l'avevo preso pure io una volta infatti ha fatto una come su stovere c'è soltanto quel fumogeno del cazzo che ancora devo capire a cosa serve tu sai secondo me a cosa serve a chi a che tu resti fa una classe col birino termico e quando lo raccogli tu sai che stai per lanciare quello eh se tu ti metti prima di lanciarlo cambi la classe e ti metti quella col birino termico eh e poi lo mandi te sei l'unico che lo sa comunque che lo mandi quindi tu sei l'unico a vedece e ammazzi tutto e hai vinto l'unico modo che può essere favorevole quella cosa cioè vabbè comunque hai vinto alla fine cioè in pratica è quello per senso oh 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 vai che Xenic si riprende si si riprende sto con 24 corpi ci va per la chem si va per la chem striche ma non ce l'hai sciagallo si ce l'hai sciagallo allora vai vai così e va bene così senza palabras prende anche mezza bandiera io non posso stare a vedere qua non fa niente io ci passo passa dietro passa dietro è meglio no io ci passo oh che passa fotte sega che qua ci stanno tutti quanti fotte sega del tuo fisico ora che ti co copyright stiamo perdendo stiamo sempre perdendo alfa passa dietro non passa per qua scusa è meglio fidati perché sennò poi ti sta male ecco come entra oh 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 grande anche in scivolata grande pure colpa della testa grande la nas occhio sopra occhio sopra come scale c'hai anche gli approvvigionamenti si lo so perché quello con la scivolata mi ha fatto fare le direttive dai 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 sei un grande dai 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 come dice allegri vai 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 occhio che moriano tutti da là io non posso te devi andare dall'altra oh forse in te non sei me quindi basta cioè forse in te forse in te non accettare consigli che balle non accettare gli agazzi stiamo perdendo oh no non lo prende non lo prende ma che cazzo ma che ti sei in culo vabbè lo uso come specchio per la lodore oh 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 mamma mia oh 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 Dove cazzo è andato Oh creepy Mamma mia Ma se c'entro perfetto Da un po' passi stilo Sì Una cifra guarda Oh ma vai piano piano Che c'è tutto il tempo Per fare la game E se esce la game in live Ti amo Ti bacio in live No Tanto non c'è la facecam Quindi neanche Quindi fa finta di baciarmi Vi dirà che mi ha baciato Invece non è vero Che è più 50 Occhio Più 50 cosa O vedi comunque Rapporto Quanto cazzo serve Mamma mia Oh mio dio Mamma mia Oh mia doll Perché si è abbassato Un fottuto bastardo Mamma mia raga La tensione Si sente È palpabile La tensione Oh Do stanno Ti taglia con un grecino Rio mare Sì Rio mare Prendendo Sinistra Sinistra no Vabbè stanno qua Occhio dietro Ma che dietro dietro Mamma mia E' bello che stiamo anche senza volume Cioè Hai capito Cioè sto fa un partitone Quindi anche se muoio E' un partitone Ma un assist così random Quanto stai io Grande Non lo so E' tipo 11 stai Io mi alzo Lui si alza Così si sente ancora di meno Io mi alzazia Alzazia e Lorena Sì ma non è possibile che Non rinascono su C Solo su A E stiamo tutti su A Stanno riprende A Vabbè Allora io catturo C Occhio sopra Sì sì Che ti dice niente Occhio sta venendo Sta venendo dalla Lo so Amma mia Sei sempre un grande Sempre queste scivolate Bravo Fosse in te Occhio sopra Occhio che si sente arrivato Cazzi sta venendo Ce ne sta un'altra a sinistra No non ce ne sta un'altra a sinistra Quanto sta un'altra a 14 Ce ne andiamo da qua Sì Stiamo prendendo Io andrei a sinistra Stiamo prendendo Occhio 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 Vaffanculo lo sapevo Vieni che mi prendi per culo Occhio 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 E vabbè non fa niente La game non è riuscita Ci sarà un'altra volta Dai andiamo così ora Rompiamoli un po' il culo Sì certo Puoi di fare la game E chi se ne frega Mamma mia Sopra sopra No sopra un cazzo Occhio Mamma mia Occhio 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 Io ti avevo detto Che uno sport Di là comunque Sei proprio un bambino scuola Ho capito C'ho un centro perfetto Come ha fatto A non morire qui Occhio occhio Ma non è che c'hai centro perfetto C'hai Dio Eh che cazzo c'entra C'è centro perfetto Vabbè io non so più dove andare Vai qua Do cazzo vai Eccolo là Non lo vedi Sei stupido Stai là dietro Andiamo un po' Te sta a sparare Tu ancora non l'hai visto Sì l'ho visto E infatti Ti ha sciottato Un colpo qua alla testa Eppure un cecchino Occhio eh Stiamo prendendo Ah ma stiamo perdendo Oh salta i suoi scali Non ti preoccupare Fammi ricaricare Oh che modi Erivenuti da qua Eh non fa niente Io li sparo tutti Eh fatti Vabbè uno l'ho ammazzato L'altro non potevo proprio Tra l'altro sto giocando Quei comandi Quelli di Lamberti Dice quelle 1 e R1 Ah davvero Sei grande Sei proprio power Mamma mia Overpower Sei power power I got power proprio Oh 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 I got power I got power I got power Oh ma che cazzo stava Ma non ho idea Era un bug Ah questi bug Ah questi bug Oh ma togli quella voce da gallina Dove cazzo stanno Ah sti back Allora difendi Ok che cosa devo difendere Sto cazzo La bandiera Occhio a sinistra Grand Oh oh Grande Occhio eh sta arrivando Dati un'altra casetta Tranquillo Oh Eh va No vabbè Sempre lui Sì infatti c'è Oddio L'ho visto questo Ma sai che reattività Sceniche Sia mia lo bano Mamma mia Lasciamo perdere Andiamo avanti Dove cazzo stanno Cioè non è possibile Che qua spariscono Eppure vicino Eppure vicino Acqua Cristo Dio Oh Cristo Dove stai Sopra Sopra Oddio Rilancia Sopra Sopra Cazzo Che cazzo Chi te pre Che ne so Oh Sacktom Distruggiamo il Sacktom Mamma mia Scusiamo Sacktom Il Sacktom Eccolo Dove deve stare Vai 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 Voi l'ho ucciso Ah ah Stronzo Quanto godo Quando le amicizia fanno la cara Perché vengono ammazzare loro Proprio amor Proprio una goduria Stronzi Mamma mia sta macchina Quanto è stato il caso Non importa Ma ci hanno messo apposta Sti bastardi infami Ah è morto E' morto Grandissimo E ora dove spawnano Brutto stronzo I lavori Si fa catturare Merdaccia che non si alza Stanno su B Carca L'unica bandiera di cianna è B Occhio a sinistra Na 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 fufu Ha più fai Cosa no Ma ne ho fai Sto chiesto ma Ho preso l'altro L'altro non è morto Ho preso l'altro E ora c'ho l'assista Ma perché oggi Nel game play Cantato Si infatti A destra Non c'è nessuno Ancora a destra Non c'è nessun altro Mi scivola il dito Eccolo Lo vede Xenic 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 verso di lui E' sparito Il figlio di Money Money Eccolo Si l'ho visto Dove è andato Dove è andato Dove è andato Dove è andato Mi sei ammazzato amico tuo Eh si sta qua Dove Ma perché C'è Stai io lì Oh stai tranquillo Mi fai i miei corpi Cazzo Ragazzo Oh dove cazzo è andato Ma perché spariscono così Oh sei dietro Oh no Ma dove stava Stava dietro Grazie Prego Quando vuoi You are welcome Oh 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 Io miro davanti Mi spuntano da di lato Mi pare normale Beh purello Intanto il radio Va alle stelle Ragazzi Grande Radio 2 Big radio Oh oh Eh 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 Oh 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 Si non va Magari mezza la mappa Coglione Capra Palla Bravissimo Ogni riferimento La persona È puramente casuale Dove cazzo sta Cioè io non riesco più A vedere nessuno Ma tu sei cieco Sei cieco Oh Di qua Di qua Un altro Cosa è scivolata No No Vai eccolo subito Si si tranquillo Occhio Dove cazzo Ma perché spariscono Ma perché Ma che cazzo sono Matrix Ma sono Smatrix Sono Smaterialix Vabbè io conquisto B allora Perché stiamo Partita equilibrata Dura 20 minuti Dura questa partita No faremo alcuni tagli Ovviamente Dura troppo Se no Tipo questo Tipo qua Oh ma qua Eccoci tornati Vabbè no Allora Quel figlio di troia Deve morire Ora me la paghi Dov'è 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 Oh Mamma mia Come se ne va Ma come se dura Così tanto Stavolta Non ho idea Oddio Senic Basta Cam Subito Cam Flick Ah ma ecco Perché dura tanto Perché nessuno Prende le bandiere Vaffanculo No B la stavo prendendo io Ma M'hanno ucciso Vabbè Episodio extra large Questo Invece le due partite È una partita sola Però senza prendere bandiere Dove state Figli di troia Assist Da dietro Ci posta Dove state Quando non andate via Perché canti così Oh sta sopra un finestra Sta sopra un finestra Ma tutti i Remington Ne usano Mamma mia Occhio dentro Tranquillo Tranquillo C'è un Bobby morto Per strada Dalla Dalla Ora me la paghi Eh 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 Ma perché Sei impedilato Beh Dio mio Che falle 48-20 Buona partita Dai Peccato Eccolo Che culo Mamma mia Comunque sono stupidi Questi No Non sono stupidi Sì Sono molto forti Sono molto stupidi Sono molto forti Sono molto stupidi Sono veramente over power Ah so pure secondo Con 49-20 Chi è il primo 31-9 Ma come è possibile Quello può fare la game Come è possibile Sono stupidi Cioè gli avversari No che è primo il 31-9 Mentre il 49-20 È secondo Vabbè Sa qua dentro no Sì Dovrebbe Oh Cazzo Mamma mia Quanto hai rischiato No io voglio un cecchino Eh proprio rischiare tutto Mamma mia Con lo switch addirittura Mamma mia Inarrestabile Ma quanto so pippe Da uno a 10 Ma che è quello Manco stava a cosà Manco stava a giocare Da uno a insigne Quanto so pippe Che c'entra Perché si dice Da quanto sei ignorante Da uno a insigne Ma purello Allora Scivola Eh 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 Dai manno porco Dici Che vecchità Dai Dai sale De merda Dio mio È un hot dog Voglio che finisce Ce la faccio più a giocare Durata 20 minuti Sto partita Basta Vabbè ragazzi La partita È finita Su questa ultima kill Noi vi salutiamo Non c'è l'ultima kill Ah quella di me Sì Vi salutiamo Grandissimi 54 21 Noi ci vediamo alla prossima Bella Bella